Venti, via! Immancabile il taglio del nastro, apripista della festa del Torrone di Cremona, iniziata in mattinata al Palatorrone di Piazza Roma, la presenza di organizzatori e autorità. Sindaco ci siamo, Cremona si apre all'Italia e al mondo con questa bellissima festa. Assolutamente sì, siamo contentissimi dentro un anno pieno davvero di eventi, anche di successi, di risultati. Questo sarà, e guardate che sta arrivando anche Torroncino, questa sarà una festa ancora bellissima. Però io voglio dire una cosa, i numeri sicuramente saranno grandissimi, ma anche la preparazione di questa festa dice che la città davvero è sempre più forte, il sistema Cremona sta lavorando davvero benissimo. Imprese, università, tutte le realtà anche che lavorano dietro questa festa, associazioni di categorie, istituzioni, davvero, è il sistema Cremona che si sta muovendo, anche in questo caso si è mosso benissimo e anche, ancora una volta, sarà una festa straordinaria. Nove giorni all'insegna della dolcezza, non solo stand, ma anche un programma fittissimo di eventi ed ospiti. Sì, ci siamo arrivati finalmente, quindi ci sono grandi aspettative, la speranza insomma che sia una manifestazione che almeno riesca a ripetere il successo di quello dello scorso anno. Partiamo molto bene, le condizioni meteo sono positive, c'è un programma veramente ricchissimo, quindi aspettiamo, aspettiamo per vedere come andrà. Ieri è stata una giornata intensamente positiva, oggi tagliamo il nastro, ci prepariamo a una festa veramente eccezionale. Quest'anno veramente abbiamo alzato da morire l'asticella, speriamo di essere all'altezza. Ringraziando il tempo, noi abbiamo, se abbiamo qualcuno che ci protegge, perché veramente una giornata così sarà veramente una grande festa, come sempre stata e sarà per i prossimi cent'anni. Assessore, oggi a Cremona per questo bell'appuntamento, goloso ma anche culturale, insomma 360 gradi di eccellenza della nostra regione e del nostro territorio. Assolutamente sì, diciamo che l'attrattività e la valorizzazione dei nostri territori passa anche e soprattutto dalle eccellenze enogastronomiche. Il torrone chiaramente è un prodotto identitario di questa provincia, ma soprattutto è un momento goloso destinato anche alle famiglie, quindi a maggior ragione per noi ha un valore territoriale molto più interessante. E comunque è un evento che noi abbiamo visto di forte attrattività anche per dei flussi turistici, diciamo così anche internazionali, non solo a chilometro zero o locali. Quindi benvengano momenti come questo, ma soprattutto benvengano momenti in cui possiamo raccontare la storia di un prodotto che non è fine a se stesso, ma che rappresenta un'identità di una comunità straordinaria come quella di Cremona. Intanto essere a Cremona sempre è bellissimo, per tanti motivi. La festa del torrone è un'istituzione importantissima e quest'anno c'è stata anche questa novità tra la Tognazza e Rivoltini. Un'idea di Massimo Rivoltini, messa poi in pratica da Cristiano, l'idea è stata l'altro anno per il centenario di Ugo, quando è perché non facciamo una cosa insieme, uniamo il torrone, Cremona quindi, con il vino di Ugo, cioè l'evoluzione, il mio vino che è l'evoluzione del vino di Ugo, ed è venuto fuori il torrone al vino, il come se fosse torrone e il capriccio di vino Antani, che è un monodose ricoperto di cioccolato. E devo dire che hanno fatto un prodotto buonissimo, questo abbinamento è meraviglioso e unisce due grandi passioni di Ugo e due tradizioni, quella cremonese e quella dove Ugo ha scelto di vivere, cioè a Velletri e dove io ho fatto diventare la Tognazza un vero e proprio brand vitivinicolo. Perfetto, allora grazie e buona festa del torrone. Buona festa del torrone a tutti, viva Cremona sempre. Il gemellaggio dolciario tra il torrone e il pampepato, in realtà che viene da un'intuizione ancora prima del gemellaggio siderurgico, sapete che Arvedi ha acquisito le acceglieri di Terni, quindi è nata un po' questa idea, l'anno scorso c'è stato questo gemellaggio, si è creato il pantorrone, che è questo dolce di torrone e pampepato insieme, e quest'anno invece stiamo continuando con questa profigua, speriamo, insomma, collaborazione, e ci sarà il primo dicembre a Terni una conferenza stampa e una presentazione del progetto Sweet Pampepato, c'è oggi qui alla festa del torrone durante questi giorni uno stand dei produttori di pampepato, quindi stiamo seguendo un po' l'onda, fra l'altro il pampepato è un dolce che assomiglia moltissimo al torrone per tradizione, perché è un dolce della tradizione natalizia del nostro territorio, ha raggiunto la certificazione IGP, quindi speriamo, insomma, abbia davanti un proficuo futuro.